Non guardare questo filmato. Non guardare questo filmato. Non guardare questo filmato. Come prendersi cura della bambola poppy. Step 1. Truccarla. Step 2. Pulirgli le scarpe. Step 5. Spazzolargli i capelli. Step 6. Adesso va molto meglio. Step 6. Spazzolargli i capelli. Step 6. Adesso va molto meglio. Step 6. Adesso va invece. Grazie a tutti